Siamo con mister Giorgini, ha debutto casalingo col Sala, bella vittoria, mister un giudizio sulla partita e cosa è piaciuto di più e cosa è piaciuto di meno dei suoi ragazzi? Salve, intanto grazie e buonasera. Mi è piaciuto tutto, devo dire, perché la partita è stata interpretata in una maniera migliore, venivamo da un'eliminazione in Coppa e una partita persa in campionato dove sapevamo che oggi avremmo dovuto fare molto di più per ottenere risultati, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto in settimana, però oggi ho visto la squadra subito concentrata, ha avuto voglia di giocare la partita, sono stati però positivi dall'inizio alla fine e siamo tutti molto soddisfatti di questa vittoria. Adesso per noi sicuramente fa morale, ci renderemo bene in settimana, convinti di quello che stiamo facendo perché la strada è quella giusta, sappiamo i nostri limiti ma sappiamo anche che lavorandoci sopra possiamo migliorare molto ed è quello che vogliamo fare in questo campionato, vogliamo essere una comparsa, vogliamo essere una squadra importante di questo girone, che è un girone molto complicato, con tante squadre attrezzate e forti, noi siamo una nuova realtà che quest'anno è ripartita, con Star Technical nuovo, con più di dieci giocatori nuovi, comunque dobbiamo ancora trovare la nostra vera identità, la vittoria di oggi ci aiuterà tantissimo. Grazie mille, grazie mille.